Dati allarmanti sul fronte povertà per la provincia di Salerno. Sono 103.000 le persone in situazioni di grave difficoltà economica. Un quadro a tinte fosche, quello dipinto dall'ultimo rapporto Svimez, associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno, è rilanciato dal sindacato pensionati CISL. In tutta la provincia sono 136 comuni con il più alto indice di vulnerabilità sociale. Ad avere la peggio, secondo il sindacato, è sempre chi vive con la pensione dell'Inps. In troppi, in particolare donne, sono costrette a vivere con pensioni insufficienti a soddisfare le più elementari esigenze di vita, come alimentazione, salute, abitazione e abbigliamento. In provincia di Salerno la situazione non è ancora esplosa grazie alla tenuta delle reti informali e familiari e perché i pensionati, molti dei quali sostengono anche le famiglie dei figli cassi integrati o disoccupati, stanno dando fondo ai loro ultimi risparmi. Il 62,2% dei pensionati della provincia di Salerno vive con meno di 500 euro, mentre solo il 31,1% arriva a 1000 euro. Ci sono anziani che non riescono a curarsi per gravi patologie tumorali o addirittura fare la spesa per poter mangiare ed arrivare a fine mese. Meglio sta, e si fa per dire, chi riceve la pensione ex Inderap. Il 4,1% non supera i 500 euro, mentre il 18,2% vive con poco più di 1000 euro. Il 31% invece oscilla tra i 1000 e i 1500 euro ed il 22,2% tocca quota a 2000 euro. Dati che non fanno che sottolineare, come l'Italia si trovi dietro a molti paesi europei nelle classifiche sulla crescita mondiale. Grazie. 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 Grazie.